Auguri a 25 anni Capri Hollywood, un meraviglioso anniversario di un festival che è diventato famoso nel mondo. Beh certo, poi Pasquale è veramente un genio. Sì, Pasquale è stato bravissimo, è riuscito veramente a creare un evento mondiale che poi tante volte è stato precursore per gli Oscar. Ciao Pasquale, complimenti, ciao.